Si presenta un libro che non ha da presentarti perché tutti sono mazionosi e 30 anni dall'uscita di Tecnicchetti, cosa bella, che è la scuola del cinema, sarà un primo evento che poi si verrà a gennaio, dopo Natale e altri eventi, sia per quanto riguarda gli adulti, sia per i bambini, sarà fatto lavoratore di lettura sabato prossimo per i bambini che esce a il compagno, e andiamo avanti, ringrazio di nuovo, e la parola a noi, a noi, a noi, a noi.